Proseguono i servizi settimanali di controlli intensivi dei biglietti sugli autobus. I dipendenti di MT oggi erano nel Tiguglio occidentale. A Rapallo le verifiche si sono concentrate al capolinea di Piazza delle Nazioni, poi gli operatori si sono spostati a Santa Margherita Ligure e Zoagli. Per le linee da Genova-Rapallo sono state fatte 9 multe su 117 passeggeri controllati. Sui mezzi da Santa Margherita Ligure a Rapallo 4 sanzioni su 95 persone fermate. A Rapallo erano presenti il sindaco Carlo Bagnasco e il presidente di MT Marco Beltrami. Queste linee che chiamiamo le verifiche intensive hanno la caratteristica di essere verifiche fatte con un elevato numero di persone e fatte praticamente al 100%, cioè noi alla fermata del mezzo controlliamo contemporaneamente tutte le persone che scendono e tutte quelle che sono a bordo. Quindi sono verifiche che consentono di avere intanto un corretto dimensionamento di quello che è il fenomeno dell'evasione, proprio perché si controlla al 100% le persone. Secondo, hanno un effetto anche un po' di deterrenza, di dimostrare che il controllo c'è, il controllo viene fatto regolarmente tutti i giorni e poi viene fatto anche in queste occasioni speciali. Regolarmente tutte le settimane c'è un programma di due o tre verifiche intensive che coprono tutto il territorio, proprio perché è un modo diverso di fare l'attività di controlleria. Quanti lavoratori di EMT sono impiegati per questi controlli? Dipende dal luogo, direi che oggi saremo 10 o 15 persone che vengono utilizzate, cerchiamo di utilizzare per questa attività di controllo sia personale normalmente adibito alla controlleria in ambito urbano, sia personale in ambito esterurbano, quindi sono squadre miste. Oggi saremo credo una dozzina di persone, in altri ambiti siamo arrivati fino ad essere 25 persone.